Autopsia sul cadavere del 23enne albanese ucciso a Sirolo, oggi Fatà davanti al giudice per la convalida. Cadaveri in spiaggia a Porto Sant'Elpidio, indagati i due uomini, le cause forse un gioco finito male. Il femminile e il maschile nell'accadibile, iniziativa a Pesaro contro la violenza di genere. Al via Marche Storie, il festival dei borghi, presentata la tappa fermana che coinvolge Torre di Palme. Buongiorno, benvenuti a questa prima edizione di All News da parte della redazione di TVRS. Apriamo con l'omicidio di Sirolo. Ieri è stata l'autopsia sul cadavere del 23enne, traffitto da una fioccina. Oggi per l'indiziato di delitto, udienza di convalida davanti al GIP nel carcere di Montacuto. Claudio Comirato. Una marcia senza cori, né cartelli né slogan, ma solo per ricordare Cleidi Bitri, il ragazzo albanese di 23 anni, ucciso domenica pomeriggio a Sirolo con un colpo di fioccina, sparati in pieno petto. Ecco quello che è stato organizzato per giovedì 31 agosto, proprio a Sirolo. Il corteo, autorizzato dalla questura di Ancona, percorrerà proprio a partire dalle 18 Corso Garibaldi, Piazza della Repubblica, fino a Piazza Roma. Nessun coro, come ho detto, né tantomeno cartelli ma slogan, ma solo una presenza fisica, con la possibilità, fanno sapere gli organizzatori di questo evento, di devolvere un'offerta per consentire il rientro della salma del ragazzo in Albania. Nella giornata di ieri, intanto, si è svolta l'autopsia sul corpo del 23enne, che ha confermato la compatibilità tra la punta della fioccina usata da Fatam e Lu per colpire il ragazzo albanese, e la lesione nella regione cardiaca, che peraltro avrebbe interessato anche il polmone. Autopsia eseguita all'ospedale di Torrette dalla dottoressa Loredana Buscemi, e che ha confermato che i due si trovavano uno di fronte all'altro. Esame a cui hanno assistito anche i carabinieri del nucleo investigativo. Famiglia della vittima che ha nominato come legale di parte l'avvocato Marina Magistrelli. E oggi è stato anche il giorno nel carcere di Montacuto del confronto faccia a faccia con il GIP Sonia Piera Martini di Fatà, Melù. L'interrogatorio di garanzia, per lui l'accusa è quella di omicidio volontario aggravato dai futili motivi che potrebbe costargli anche in fase di giudizio l'ergasto. L'avvocato dell'Algerino è Davide Mengarelli, al quale lo stesso ha dichiarato di essersi difeso da tre persone che lo stavano aggredendo e di non essersi reso conto di aver ferito mortalmente il 23enne albanese. 23enne albanese per il quale oggi stamattina è arrivato anche il nulla osta, per poter restituire la salma ai familiari che sarà all'obitorio di Torrette dove verrà allestita la camera ardente e dove sono già presenti il fratello e gli amici. Rimarremo qui fino alla partenza del ferito, dice Clay Dancasa, uno dei suoi amici, che sarà probabilmente per domani con la nave in partenza dal porto di Ancona. I parenti hanno appunto dichiarato che saranno con lui fino al momento del trasporto. Il funerale del ragazzo avverrà nella sua città natale, la città di Cleidi e Lusnie, che ha fatto arrivare un carro funebre con il quale verrà trasportato proprio sulla nave. Ed ora parliamo di un altro fatto di sangue con un alone di mistero, ancora tutto da svelare. Il cadavere in spiaggia a Porto Sant'Elpidio, ritrovato da due donne che stavano passeggiando sul bagnasciuga. Le indagini si stanno concentrando su due uomini, una moldava di 33 anni, forse vittima di un gioco erotico finito male. Ci racconta tutto Manolita Scocco. È in questo tratto di lungomare sud di Porto Sant'Elpidio che lunedì mattina, abbastanza presto, attorno alle 7, è stato rinvenuto il cadavere di una donna. A pancia in sotto, seminuda. Subito sono scattate le indagini per capire chi fosse la vittima e che cosa fosse accaduto. Al momento sono indagate due persone, un 45enne di Porto Sant'Elpidio e un quarantenne di origini straniere. La vittima, una 33enne moldava, era in città per motivi di vacanza, per ragioni turistiche, almeno così sembra. Era arrivata infatti solo qualche giorno prima. Intanto proseguono serrate le indagini per capire le cause del decesso e i contorni della vicenda sono tutt'altro che chiari. Il giallo continua. I due indagati, che vivono in un appartamento nella zona sud di Porto Sant'Elpidio, conosciuta come Ferro e Di Cavallo, sono stati ascoltati a lungo dai poliziotti della squadra mobile della questura di Fermo e alcuni particolari del loro racconto sono risultati contraddittori. Gli investigatori stanno cercando di capire se la giovane sia stata drogata e stordita, quindi in quelle condizioni possa aver fatto un bagno per poi accusare un malore e annegare. Non escluso neanche che la ragazza possa aver assunto sostanze stupefacenti volontariamente e anche in quel caso in stato confusionale abbia raggiunto la spiaggia per fare un bagno e sia annegata. C'è poi un'ipotesi abbastanza agghiacciante, che è quella che i due indagati abbiano provato un approccio, forse proprio in mare, e che la cosa sia finita male. Questo spiegherebbe perché la ragazza non aveva indosso i pantaloni e gli slip, visto che il suo cadavere è stato trovato con il solo reggisino e una maglietta. Al momento, in attesa dell'autopsia, tutto è tenuto nel massimo riservo da procura e investigatori della polizia. Rimaniamo in spiaggia però per tutt'altro motivo. Le mareggiate, quelle di questi giorni, non fanno sconti a nessuno. Luca Falcetta è stato nella spiaggia di Scossicci a vedere, purtroppo, quello che il mare ha portato via. Non c'è pace per Scossicci. Corrile Maltempo è arrivata l'ennesima mareggiata, che ha messo a dura prova la resistenza degli operatori valneari. Da anni vengono reclamate a gran voce nuove scogliere e la resistemazione di quelle esistenti. Ma niente è stato fatto. E così c'è il serio rischio che dopo nel giugno sottotono, anche settembre non sia da meno, con la spiaggia ormai ridotta all'ubicino. Ci troviamo sempre a fronteggiare queste mareggiate perché ormai non c'è più uno scoglio che ci difende dalle mareggiate o da queste giornate così improvvise. Settembre è a rischio, quindi? Settembre è a rischio, giugno è volato via. Speriamo semplicemente di non perdere quello che abbiamo fatto. Chiediamo che l'amministrazione comunque si faccia carico di questo impegno, visto che da fonti certe si sa che ci sono i soldi per queste scogliere, sicuramente porterebbero altra gente che purtroppo non viene in quanto non c'è la possibilità. Ma il quartiere turistico per eccellenza di Porto Recanati lamenta anche la poca considerazione avuta negli anni del comune, sia a livello di eventi ma soprattutto di cura delle strade, manutenzione del verde e raccolta dei rifiuti. Problemi ormai storici che stanno rendendo la località meno attrattiva. Non è più il Porto Recanati che conoscevamo, io sono qua ormai da 30 anni, quindi ho visto Porto Recanati quando non c'era nessuno, lo sviluppo di Porto Recanati, purtroppo in questi ultimi due anni c'è stato quasi sempre una diminuzione di turisti. Questi danni sulla costa, gli operatori balneari e turistici speravano in un settembre che potesse ripagare un luglio non andato benissimo. Vedremo come si prolungherà la stagione turistica. Però adesso cambiamo argomento, andiamo a Pesaro per un'iniziativa sulla violenza di genere promossa da varie associazioni. E' stata lì alla conferenza di presentazione Camilla Cataldo. Questo è il carcere di Villa Fastigi di Pesaro, la casa circondariale, come vedete alle mie spalle. Questa mattina in Comune si è parlato di un progetto che riguarda proprio questo istituto, in particolare sulla sezione femminile. Il femminile, il maschile, nell'accadibile, è l'iniziativa che vedrà la partecipazione della giudice Paola Di Nicola Travaglini, della direttrice della casa circondariale di Pesaro, Palma Mercurio, e di chi opera e partecipa ai progetti per il contrasto alla violenza di genere della cooperativa Labirinto, attiva nell'istituto territoriale. Si fanno tantissime cose in sezione femminile, grazie alla collaborazione di tutto il territorio, devo dire, i volontari, tutti. E molte sono anche fatte insieme ai detenuti uomini, in modo che non ci sia questa falsa separazione che poi fuori nella società non c'è. Sono tutti momenti di riflessione. Speriamo di iniziare delle offerte lavorative concrete, però intanto le nostre detenute riflettono, lavorano, abbiamo riaperto le serre, hanno una bellissima parrucchieria e fanno tanti corsi dentro. Sono molto vive e vivaci. Da 12 anni Labirinto si occupa di servizi e azioni per il contrasto alla violenza di genere nella provincia di Pesaro Urbino. Da questa esperienza è nata l'importanza di trattare il tema all'interno della casa circondariale pesarese, scelta condivisa con l'ambito territoriale sociale 1 e realizzata in stretta collaborazione con la struttura detentiva. Questa iniziativa, in particolare quella del 29 settembre, porterà autorevoli interlocutori ad affrontare una discussione aperta dentro al carcere sulle tematiche legate alla violenza di genere. Ed è un po' anche a coronamento di un insieme di progetti che da un paio d'anni la nostra cooperativa realizza dentro al carcere, sia in favore delle donne dentro al carcere che hanno subito violenza, ma anche a beneficio degli uomini che sono dentro per averla commessa la violenza. I vigili del fuoco sono intervenuti ieri pomeriggio in via Cipriani a Falconara Marittima per abbattere un albero di grosse dimensioni che a causa dell'evento forte si era pericolosamente inclinato appoggiandosi da un lato sulle pareti di un edificio. La squadra di Ancona, in collaborazione con l'autoscala, ha provveduto a tagliare completamente la pianta e a mettere in sicurezza l'area dell'intervento sul posto anche la polizia locale che ha dovuto chiudere al traffico e far sì che i vigili del fuoco potessero lavorare in totale sicurezza. Non si segnalano persone coinvolte. Tra l'altro ci fanno sapere proprio dal comando dei vigili del fuoco di Ancona che tra il 26 e il 29 di agosto sono stati ben 242 gli interventi di questo genere nella sola provincia anconetana, ben cinque volte di più dell'ordinaria media di questi interventi. Invece a Senigallia avvicendamento del comandante nella compagnia Carabinieri. Il capitano Francesca Romana Ruberto, insediatasi nel 2019, a giorni lascerà il comando. Arriva il capitano Felicia Basilicata, 30 anni, laureata in giurisprudenza, già comandante del plotone allievi Carabinieri a Campobasso e comandante del radiomobile di Catanzaro. Il sindaco Massimo Olivetti ha ricevuto entrambe per un saluto durante il quale ha rivolto un sentito ringraziamento al comandante uscente. Non potremo mai dimenticare, ha detto il sindaco Olivetti, il grande servizio svolto dal capitano Ruberto e la vicinanza ai nostri cittadini, specialmente durante l'alluvione e il periodo del Covid. Siamo grati per l'impegno e la generosità che ci ha messo in questi anni. La compagnia naturalmente è nelle mani del nuovo comandante, quindi a lei i migliori auguri di questa nuova esperienza. la capitana Ruberto andrà in Campania per un nuovo prestigioso incarico. Tra poco naturalmente ci saranno le campanelle per il giorno di scuola. Noi fra un po' faremo anche servizi a questo riguardo. Vi lancio un po' il tema in avanti che tratteremo nella settimana prossima. Questa settimana tocchiamo quello invece della sanità, che svilupperemo anche questo nei prossimi giorni. Però la scuola sarà il prossimo argomento. Dopo questa Highlights sull'argomento tracciante della prossima settimana, adesso andiamo agli spettacoli. WP Golbery, il premio Oscar, è arrivata a Recanati. Sul set del film Leopardi e Co, primi ciac per lei, allestito appunto negli spazi della Iguzzini. L'attrice si fermerà solo qualche giorno nella città che farà unica sfondo alla pellicola. Prima di andare sul set, l'attrice ha ricevuto il saluto della città da parte del primo cittadino, Antonio Bravi, e dall'assessore alla cultura, Rita Soccio. Bene, questo è tutto. Adesso vi propongo il sommario di quest'oggi. Autopsia sul cadavere del 23enne albanese ucciso a Sirolo. Oggi Fatà davanti al giudice per la convalida. Cadaveri in spiaggia a Porto Sant'Elpidio. Indagati i due uomini, le cause forse un gioco finito male. Il femminile e il maschile nell'accadibile, iniziativa Pesaro contro la violenza di genere. Al Via Marche Storie, il Festival dei Borghi, presentata la tappa fermana che coinvolge Torre di Palme. Per avere subito le informazioni aggiornate durante tutta la vostra giornata, avete a disposizione il nostro sito UTVRS, che adesso vediamo proposto in home page dalla regia. Come vedete in primo piano la cronaca, ovviamente tutte le notizie che riguardano gli aggiornamenti in corso d'opera, ma anche tanto sport e il bottone della diretta in streaming che potete utilizzare per quanto riguarda appunto il telegiornale, ma tutti i programmi che vanno in onda sul canale 13 e che non potete seguire davanti al televisore. Bene, questo è tutto, vi ricordo che dopo di noi ci sarà All Sport dalla redazione sportiva di Recanati e dopo la sigla il meteo. Arrivederci a questa sera. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, molte nubi con deboli piovigili. In montagna, molte nubi con deboli piogge. Nel pomeriggio, sulle coste, nubi irregolari con deboli temporali. In montagna, cieli coperti con piogge battenti. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, parzialmente nuvoloso, con schierite prevalenti. Nel pomeriggio, sulle coste, parzialmente nuvoloso, con schierite prevalenti. In montagna, nubi e schierite con possibili piovaschi.